salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui su dei zii ci siamo rintanati in questa casa cercando del del riparo e ovviamente ripartiamo da da qui quindi occhio perché ovviamente potrebbe esserci qualcuno visto quello che è successo nell'ultimo appuntamento insomma che non c'è andata proprio benissimo allora mentre esco da qui volevo intanto ringraziarvi ovviamente per ecco questi già sparano ma che cazzo per i consigli che mi avete dato che mi lasciate sempre sotto nei commenti molto molto accetti sia per l'utilizzo che posso farne io ma anche per chi magari li legge possono essere utili ovviamente anche ad altre persone quindi sentitevi assolutamente liberi di lasciarli insomma che come ho detto possono fare comodo a tutti quanti allora vediamo un attimo se riusciamo a trovare qualcosa di di utile questa che è in centro capra carcetto io calciotto più che altro i porti sono belle sono belle grandi allora vediamo se troviamo qualcosa magari non non dei player sarebbe ottimo peccato perché insomma qui la zona sembra interessante ma sentendo lo sparo ovviamente cerchiamo di andare dall'altra parte non proprio lungo lo sparo allora vediamo un po se ci dice bene la c'è una tenda cucciuta fatta via in corpo i schiopponi rossi questo sarà bello bello presente eh scarponi da giungla addirittura se ci ripiamo è come ma sa che se stanno a sparare tipo abbastanza vicino sbaglio filtro per maschera anticassa vabbè non ce lo prendiamo ma che cazzo stanno sparando a parte noi c'è questo fucile che c'è un corpo solo oh cazzo che cazzo mi sta a sparare c'è qualcuno che mi sta a sparare però dove cazzo sei ma che è oh che cazzo mi sta a sparare che ha trovato sono pure sanguinante l'ho presa una trappola che ho preso eh mi dovrei curare ma oh mi sembrava che mi stesse tipo attaccato per quanto mi stesse a sparare eh insomma ecco se ce l'ho così una benda ce l'ho dai cazzo non ti riesci a benda da sdraiato a parte con la fortuna che c'ho sicuramente mori di sanguato guarda te dai che cazzo di sfiga però ok qualcosa l'abbiamo riuscita un attimo a fermare ma se magna un attimo sto sputo di marmellata qui che c'avemmo veramente uno sputo ma io non ho capito chi cazzo mi stesse sparando e facendo danno soprattutto c'è boh ma qua è un po' un po' un casino dovremmo cercare di trovare un zombie riparo per recuperare un po' di salute eh magari non qua questa è pure chiusa cazzo e niente riuscimo di qua eh qua ma se stanno a chiudere occhi eh lo so che devo recuperare però ci avessimo qualcosa da mangiare piano fermate un attimo fa recuperare un attimo di fiato non c'abbiamo niente questo che è multivitamini ci fa forzare il sistema immunitario vorrebbe tornarci comodo diamosi tutto asticchiamosi ragazzi non so cosa mi stesse facendo male mi stavano a sparare che frecce non lo so sembrava talmente vicino che mi stesse a appunzicchiare e niente siamo svenuti ovviamente non so ragazzi ovviamente se voi avete delle idee fatemelo sapere nei commenti io non lo so sinceramente cosa mi stesse facendo male cioè sentivo però non so se ci stessero sparando magari con del sinerziatore qualcosa l'unica l'unica cosa che mi viene da pensare è quello perché sentivo un suono come se stessero sparando o facendo qualcosa ma cazzo casca pure la roba dai mani dovrò recuperare un po' di dei sangue diciamo però non so se effettivamente era un player o certo se fosse stato un player magari mi sarebbe corso dietro non lo so vabbè vediamo se riusciamo a uscirne vive spero non fosse un cheater perché insomma farebbe rosica un pochetto ok qua sono di zombie perché posso manco correre più di tanto se no questo inizia a sbarare là e non è proprio il massimo mi servirebbe qualcosa da mangiare dannazione proprio tanto una cosettina da mangiare non sarebbe affatto male dovrei raggiungere proviamo a andare verso quelle baracchette là e vediamo proprio messi eh ho proprio messi male male non so se ci riusciremo raga mo mo vediamo dai perché la situazione è molto molto complicata più che altro speriamo che non attiriamo l'attenzione di qualche zombie perché se ci attacca mentre stiamo così ci possiamo manco difendere più di tanto dai io credo in te ok rimettete questa qui anzi riposale che tanto se tutte le volte che sveniamo questo la faccate dalle mani non è proprio il top purtroppo stiamo pure in una zona agricola qua quindi se ci dice veramente bene di trovare qualcosa da mangiare ma ovviamente non siamo fortunati sono occasione aspettare l'indicatore del sangue è in in rialzo non tantissimo però comunque rialzo di dem il diciamo la vita il problema è che io non ho non ho niente da mangiare quel poco che c'ha ah non c'ho questo parco giù c'è i sardine mannaggia a me che non c'è vedo no aspetta però come le apro queste cazzarola vedete che non c'ho mannaggia non c'ho niente per aprirle queste cose ma guardate che sfiga dalla serie chi c'ha il pane non c'ha i denti ovviamente questo è proprio l'esempio preciso della situazione nostra a parte che non ho capito perché non siamo apriti col grimaldello questa poi mi ha spiegato insomma riusciamo ad aprirle con i cacciaviti con i peggio cose e con i grimaldelli no piano piano si mettiamo là e vedevo di fare qualcosa niente salve ma questa fama la rimette un attimo qui perché a fini che la prossima volta che che svegniamo non mi ricordo di recuperarla da per terra eppure me la perdo dai mi serve qualsiasi cosa che sia un oggetto con aspetta ma posso aprire la colpina di porco posso aprirla con questo sì vabbè è un azzardo stavano da proprio una una cosa assurda però meglio di niente che cacchio mangiamo se qualcosa non so quanto ne sia rimasta ma magnatela ma niente praticamente niente proprio come se avessimo aperto una una scatola di di grissini con un martello uguale vabbè meglio di niente però questi cazzo dei zombie che giro non sono ancora però pacchetto di semi di peperoni ottimo stavolta me lo me lo prendo se siamo ancora vivi visto che visto l'andazzo insomma se riusciamo pure a trovare un posto doseminali lo niente non ce la faremo non ci la possiamo fare così incredibile è figo che figo tra virgolette magari è divertente per voi che guardate il video che ogni puntata che faccio c'è qualcosa succede qualcosa nella prima stagione diciamo di dei zii c'erano alcune puntate che effettivamente non succedeva niente più che altro quando andavamo più dentro all'interno diciamo della mappa c'erano i momenti in cui magari effettivamente non accadeva nulla quindi erano un po' morotti eh niente ma qui non posso manco scavalcare ovviamente però qui porco giuro c'è sempre qualcosa che succede ripeto non è male assolutamente soprattutto magari per voi che guardate c'è un po' di azione magari vi divertite pure che ci sta assolutamente ormai io ho imparato a non prenderlo diciamo seriamente dei zii perché come lo gioco io non posso posso prenderlo seriamente ma va bene pure così eh cioè non ho va benissimo assolutamente anzi mi piace pure di più ogni puntata ogni partita gli assi fa benissimo pure così possono succedere qualsiasi cosa ed è veramente divertente così allora vediamo se ci dice bene che magari troviamo qualcosa qua dentro o magari troviamo il tizio che ci ha ucciso che ne so niente aspetta che queste stanno a chiudere occhi e niente è finì così se moriamo così però rosico ma proprio rosica poi magari mi riguardo bene il il registrato e vedo se magari c'era qualcuno più vicino a me di quanto pensassi che magari ci stava a sparare con una pistoletta di quelle silenziate non so perché se no non lo capisco il problema però è che ci avemmo avuto tre tagli e quella è la cosa dai un pochettino il sangue mi è ricresciuto diciamo è aumentato e quella è la cosa che non capisco quindi effettivamente c'era davvero una trappola da qualche parte non so ma non mi è sembrato che che mi è sembrato di sentire il suono diciamo che non mi è mai capitato di entrarci con i piedi dentro una trappola quindi non so effettivamente il suono però mi aspetto che possa sentirsi distintamente insomma il suono di una di una trappola invece mi so trovato con tre tagli e è morente proprio quindi capirei poi con tre tagli che ero oh c'era qualcosa ho visto qua tre tagli poi il sanguinamento veramente sgorga go go e ci ha messo veramente poco a a dissanguarmi quasi però mi era già capitato se non ricordo male sull'altra mappa che non si è capito che era successo se eravamo trovati graffiati così mezzi morti però non mi ricordo se siamo veramente morti o meno però così in maniera inspiegabile boh va a capire perché comunque per il momento siamo vivi non al top delle forze però siamo vivi quasi quasi mi ripiglio un altro di questi che insomma visto che siamo un po' malatici quindi le vitamine fanno sempre comodo magari se riusciamo anche a non a non svenire non sarebbe male allora qui a parte quei pochi proiettili non abbiamo trovato un bel niente abbiamo trovato però un fottio dei zombie che quasi quasi conviene ovviamente a girare è diventato un desi in bianco e nero praticamente abbiamo messo la mod in bianco e nero ragazzi non so se vi piace di più o meno un po' un po' così no sembra molto molto particolari allora qua ci stanno altri zombetti io ho sti semi che se riuscissimo a trovare un campo fatto bene magari potremmo pure cioè una serra insomma o qualcuno che eccola tiè l'ho chiamata potremmo eventualmente piantarli il problema è che dovrei andare ad utilizzare l'acqua che c'è nella bottiglia ok per quanto siamo comunque messi oh c'è altri semi qua però non c'ho la pala cazzo beh noi si prendiamo questi non sono stati non sono stati preparati una giacca servirebbe una pala o o di trovarli già pronti diciamo cazzo è una lanterna perché in bianchini lo faccio pure fatica a capire che cazzo c'è per terra la bustina ho visto che ovviamente vorrebbe essere dei semi non ho manco visto di cosa però va bene pure così in alta lanterna ok questa è c'è solo la parte sopra io in teoria c'ho questa ma tanto per il momento la lanterna sti cavoli occhio perché ovviamente vorrebbe esserci qualcuno oh le pinze buone una torcia e degli sacchetti per mangiare questi sono proprio comodi mettiamoci un attimo così e manniamo sì tutti perché per quanto il cibo però sta bene proprio riesco a mangiare perché più è alto il valore penso più velocemente recuperiamo anche la la saluta la saluta